Una giornata di silenzio e di grande apprensione per i familiari di Don Matteo Diletti che nell'abitazione di via Grumello a Bratto della Presolana attendono notizie sulle ricerche del figlio 39enne sacerdote disperso da giovedì scorso nella zona di Vello di Marone. Per lui nel 2004 era iniziata una delicata vicenda giudiziaria legata ad una brevissima relazione con una lieva tredicenne, un affetto reciproco poi trasceso. Condannato in primo grado a quattro anni, pena confermata in appello, Don Matteo che ha riconosciuto i propri errori dovrebbe presentarsi in aula il prossimo 6 ottobre per l'ultimo grado di giudizio. Ora è di grande attesa anche in Curia a Bergamo dove abbiamo raccolto queste dichiarazioni. Immagino anche il suo di stato d'animo. Ovviamente Don Matteo è comunque un confratello e tutte le vicende che lo riguardano in qualche modo ci hanno riguardato, cioè è sempre così. anche se Don Matteo era di età diversa dalla mia. È sempre un dramma che ci coinvolge tutti. È sempre molto difficile parlarne e lo è ancora di più per noi che facciamo questo lavoro. Lei ha trovato qualcosa di spiacevole da parte della stampa in queste ore? Per ora no. Ci sarà, credo, se dovesse succedere comunque qualcosa. Il problema è che sulla pedofilia dei preti si scatenano sempre come se fosse il crimine per eccellenza. È molto grave, cioè è molto facile riconoscere la gravità di una cosa del genere. Ma questo accanimento verso questo tipo di anomalia e di grave carenza morale, sensibilità verso i ragazzi, verso i bambini, non deve far dimenticare comunque che spesso anche chi fa queste cose ha dei problemi. È facile anche smarginare a dire pedofilia? Ovviamente, ma è facile quando ci si accanisce, quando un peccato diventa simbolico, diventa la somma di tutti i peccati, semplifica tutto, non si ha più il senso delle sfumature. Noi questa mattina siamo stati in casa dal papà e naturalmente capiamo ovviamente lo stato d'animo. Lei si sente di rivolgere un pensiero ai familiari? Sì, anche se è banale. Sono gente di fede, immagino, non li conosco, ma hanno un figlio prete, quindi sono gente di fede e in questi momenti la fede diventa l'appello superiore. Non risolve i problemi, non cancella l'angoscia, ma le dà un senso. Il Vescovo ha invitato la preghiera. Appunto. Preghiera vuol dire trovare quella fratellanza nella fede che spesso si smarisce.